Novità di oggi in Edicola il Crystal Water Slime Putti Aquarius e infatti sembrano proprio degli acquari. All'interno nella loro trasparenza si vedono piante e animali dell'acquario. La pasta è una pasta, ecco qua un altro colore, guarda che carino che è. La pasta è sempre uno slime con cui si può giocare. Guarda che bello il granchietto e dopo là sotto cosa c'è? Una tartaruga marina, un colore più bello dell'altro, eccoli qua. Vediamo un po' se si vede meglio, no. Ecco qua, una pasta da giocare profumata, profumata il libretto da abbinare sempre col mini poster eccetera. E' un putti elastico e giocabile, cristallino, con piante e animali all'interno. Effetto proprio acquario, originale.